Non ha potuto fare altro che ammettere l'errore. Il presidente Lanas Pietro Ciucci è arrivato nel tratto della statale Palermo Agrigento coinvolto dall'eccedimento una settimana dopo l'apertura. Non si sbilancia però spiegando che l'errore può essere stato commesso in fase di progettazione o esecuzione. Quello del viadotto Scorciavacche fin da subito è diventato un caso nazionale a partire dall'intervento del presidente del Consiglio Matteo Renzi. La stessa Anas non è stata risparmiata dalle polemiche. Ciucci puntualizza però che sono stati gli stessi tecnici della ditta e quelli dell'Anas a capire che stava franando il tratto di strada e da qui la decisione della chiusura scattata il 30 dicembre. Le vere fasi che hanno portato all'inaugurazione del tratto con tre mesi di anticipo rispetto ai tempi sono adesso al vaglio dei magistrati di Termini Merese. Il collegio dei periti è già lavoro per ricostruire in quale punto esatto della catena che va dall'assegnazione dell'appalto al collaudo sia stato commesso l'errore. Nel caso specifico da accertare c'è anche un altro aspetto, ovvero quello che riguarda il terreno sul quale è stato ricostruito il viadotto. A causare la spaccatura sarebbe stato uno smottamento. Per questo si dovrà approfondire come è stato realizzato lo studio geomorfologico del terreno sottostante. Al momento dunque la procura di Termini Merese si trova davanti a una lunga lista di domande. In attesa che l'inchiesta conduca alle risposte un elemento è certo, qualcuno ha sbagliato.